Amici, con tutti i sti leoni da tastiera, non sapevo più come ride e volesse bene. Sentite il gorilla, restiamo umani. Che scevo? Un bicchiere, una fetta ad arancia e un crudino. È piccolo, sì, ma è una potenza. Perché piace a tutti e fa star bene la gente. Accogliete l'ospiti con un bel crudino e damo se ne abbraccio grande come il mondo. Crudino, l'analcolico più ondo fa abbracciare il mondo.